Il vicepresidente statunitense Mike Pence arriva a Monaco per la seconda giornata della conferenza sulla sicurezza. Secondo anticipazioni, il numero 2 di Trump rassicurerà l'Europa, definendo la partner indispensabile per Washington. Ieri il senatore John McCain aveva velatamente criticato la Casa Bianca, parlando di inizio caotico. Cosa direbbe la generazione di Von Kleist, fondatore della conferenza, se vedesse il mondo di oggi? Temo che lo troverebbe familiare, lo stesso ne sarebbe allarmata. Sarebbero preoccupati per un crescente allontanamento dei valori universali ed un recupero dei legami di sangue, di razza e settarismo. La conferenza si svolge in un clima incerto, causato anche dalle rinnovate critiche del presidente USA all'assetto attuale della Nato. L'alleanza tuttavia continua a radicarsi. Sul confine lituano è stata rafforzata la presenza militare, una azione che ha sollevato le proteste di Mosca.